Combattere la piaga della contraffazione nel distretto della Pelletteria attraverso una linea comune tra imprese, artigiani e sindacati. È quanto è stato presentato nella sede di Confindustria a Firenze, un codice di legalità da adottare nei prossimi sei mesi per avviare un percorso verso la tracciabilità totale delle filiere di un comparto che a Firenze conta quasi 13 mila occupati e un giro d'affari da 2,8 miliardi di euro. Noi diciamo che non c'è più tempo da aspettare, le imprese hanno bisogno di un messaggio chiaro e preciso da parte delle istituzioni per fare pulizia intorno a un settore che è sotto osservazione da tutto il mondo. Produciamo lusso e dobbiamo avere un sistema pulito. L'appello è rivolto alle istituzioni affinché ci sia un maggior coordinamento nella lotta all'illegalità in un settore che produce un terzo dell'export manifatturiero fiorentino. Creando delle sinergie e proponendo delle sinergie alle istituzioni in collaborazione come con le associazioni datoriali e sindacali per poter avere un maggior controllo sul territorio. Più legalità significa anche tutela dell'occupazione e lotta al lavoro nero in un settore che punta tutto sulla qualità del prodotto. Sì, e soprattutto è difesa del lavoro di qualità. Non si può fare un lavoro fatto bene, non si può fare un buon prodotto, non si può produrre bellezza se non c'è un lavoro legale e con dei diritti. La pelletteria può traghettare la ripresa economica fiorentina, dicono i relatori. Possiamo diventare la Silicon Valley del Made in Italy.